amici di quarta parete buonasera concludo questo lunghissimo giro di teatri romani partito dalle tre sono arrivato dopo la sesta intervista qui all'anfitrione per parlare con vecchie conoscenze vecchie amici a cominciare da marco bellocchi buonasera marco ciao a tutti ci troviamo dopo la scoperta dell'america la scoperta dell'america di quest'estate alla quercia del tasso quella cosa di pascarelli romanesco una follia totale e cambiamo registro però questa volta quindi andiamo sulla trammaturgia spagnola con attenti al cane ovvero il galgo un testo di vanessa monfort traduzione di pino tierno e con marco in scena abbiamo giustino di filippis buonasera giustino tagna lettieri eccola qua valentina maseli la ritrovo e michetta farinelli naturalmente la regia è di marco bellocchi insomma è inutile di puntualizzarlo insomma allora storia di due coppie diciamo di diverse nazionalità e il problema centrale l'affidamento di un cane marco in spagnolo si appunto galgo in realtà è un levriero perché in spagna questo questo è un problema serio anche oltre che noi ci facciamo una commedia la signora monfort ci ha fatto una commedia però in realtà in spagna un problema serio perché questi levrieri questi galgos fanno gli fanno fare delle cose alla signa alla fine poi li impiccano li ammazzano di maltrattamento con con morte cruenta e quindi questa cosa dell'affidamento cercano di salvare questi cani in spagna ed è anche per questo che io ho lasciato l'ambientazione in spagna perché comunque poi non è che cambi moltissimo come come cosa anche nei personaggi sì sì anche nei personaggi sono due coppie spagnole una coppia spagnola scusa e una tedesca e poi c'è invece la quella che decide chi prenderà questo cane che appunto spagnola e quindi e quindi però su questo si innestano una serie di dinamiche di 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 situazioni comiche divertenti eccetera però sul retro gusto diciamo di questo di questa cosa che invece è un occhio attento su quello che è proprio la tensione verso gli animali ma esattamente esattamente che mi sembra che di questi tempi sia anche una cosa su cui riflettere no quasi tutti noi abbiamo un animale in famiglia a cui siamo affezionatissimi e quindi e quindi la cosa anche un po ironica è che queste due coppie parlano di questo levriero da adottare come come un bambino un povero vero che e tra l'altro questo levriero che noi sentiamo abbagliare fuori le quinte è veramente il sesto personaggio cioè ogni ogni abbaglio che c'è è una battuta e loro rispondono adesso sta facendo così adesso sta facendo dice questo adesso ha fame come se fosse una persona come se fosse una persona un bambino diciamo un bambino quindi vanno adottare questo questo cane che allora tu in scena saresti accompagnato con io sono lo spagnolo e c'ho la mia mogliettina spagnola che è Tania Lettieri allora tu sei la consorte no non sono sposati con vivo insomma ma comunque sei accompagnata con com'è il nome del personaggio Elena e Daniel e Daniel tu sei accompagnata con Daniel e nella dinamica di questa coppia cosa succede Tania che io ma il cane me lo voglio tenere e non alla fine non lo voglio più dare succedono un po di situazioni dove alla fine anche lui mi tradisce col cane ecco puntualizziamo sì sì parlando di cane sì e poi c'è l'altra coppia c'è Valentina venite qui i tedeschi sì la coppia teutonica allora Valentina il tuo personaggio si si chiama Greta Greta lui è mio marito Hans Hans su cui si ironizza e diventano Hans e le Greta le nobbi vabbè adesso stiamo anticipando troppo spoiler troppo spoiler allora Valentina che coppia siete beh noi siamo una coppia diciamo c'è un po' il il cliché della rigidità teutonica ovviamente sempre molto molto ironica molto scherzosa anche se il mio personaggio magari è un po' più naive ma tu ti esprimi proprio così sì 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 lei invece è molto più austera rigida quindi il mio personaggio è molto più sensibile un po' succube di questa moglie tostissima tostissima poi chiaramente insomma come si diceva ma gli fai vedere i sorcivoli eh sì 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 poi comunque come in tutte le commedie c'è il rovescio della medaglia alla fine le cose non stanno esattamente così esattamente e poi abbiamo Michetta Michetta Farinelli buonasera Michetta allora invece tu in quinta in comodo insomma potremmo dire esatto tra le altre cose particolarmente affezionata a questi cani perché io il levriero l'ho avuto e sono cani veramente eccezionali grande intelligenza sì esatto esattamente in questa disputa vive in un suo mondo un po' magico un po' così eccetera eccetera e cerca di capire appunto a chi lasciare a chi affidare questo questo povero cane e insomma alla fine sarà non posso raccontare la fine voglio dire avrà una collocazione finale questo cane sì però lo vedrete diciamo autonoma decisamente autonoma e non diciamo di più insomma allora si debutta questa sera ore 21 quindi siamo 10 minuti possiamo dire adesso facciamo in tempo a chiudere il sipario allora attenti al cane e il galgo di vanessa monfort la traduzione di pino tierno con marco belocchi giustino di philippo settania lettieri valentina maselli e come che tra farinelli naturalmente citiamo anche i collaboratori no scene lucidi e manuela barbato i costumi sono di maria letizia vato l'aiuto regia di manuel ricco e la regia è di marco belocchi dobbiamo dire anche che la produzione associazione culturale gente già in tarosselli nostra con cui abbiamo fatto gli ultimi spettacoli ormai da qualche ormai da qualche anno bene allora io vi ringrazio grazie a te in bocca al lupo e una baiofinale grazie ragazzi grazie